Un punto di arrivo, ma anche un inizio, per ravvivare la vita della comunità e portare anche chi durante l'anno è meno presente. Sono anche questo le feste patronali, soprattutto nelle parrocchie più piccole come quella di Franco Lano, a Casalza Ligure, che ha festeggiato Nostra Signora della Speranza. Una festa sentita preceduta da un triduo guidato da Don Mario Moltedo e culminata nella Messa Solenne della Domenica, a cui era presente anche il Vescovo Diocesano. Come ogni anno, la festa accade nei pressi dell'anniversario della dedicazione della Chiesa a Nostra Signora della Speranza, avvenuta 23 anni fa. Un titolo molto particolare, sono poche, forse nessuna, ecco le Chiese dedicate a Nostra Signora della Speranza. È bello perché è un titolo recente, parrocchiani negli anni 60 hanno detto come vogliamo chiamare questa comunità che sta nascendo. Una signora anziana ha detto, beh nella Salve Regina si dice Speranza Nostra e quindi chiamiamola Nostra Signora della Speranza. Durante l'omelia il Vescovo Devasini ha parlato della speranza ricordando che anche il tema del Giubileo 2025, in particolare, ha spiegato che se si crede, se si ha consapevolezza che ogni sconfitto e ogni morte non è per sempre, ecco questa è la speranza. Sperare è vivere, sperare è dare un senso al presente, sperare è camminare, sperare è avere ragioni per andare avanti. Come in molte parrocchie, anche a Nostra Signora della Speranza, nel tempo i fedeli si sono ridotti di numero, una tendenza acquida dal periodo del Covid, spiegano, ma rimangono le persone che vivono la vita di comunità con fedeltà e passione. Prima c'era un po' più, come si dice, la gente veniva un po' di più, adesso si è un po' persa, non so come mai. Tanto è l'unica festa patronale che abbiamo e quindi è un po' il momento per richiamare a raccolta, anche dopo l'estate, che è un po' dispersiva, tutta quanta la comunità. Ci sono anche i giovani, chi sta proseguendo il proprio percorso per i sacramenti, ma non solo. Iniziando i preparativi per iniziare il catechismo e poi proseguire durante l'anno la preparazione per questo San Cravento. Ho iniziato frequentando il gruppo giovani e successivamente da due anni sono diventata catechista. Quest'anno ho il gruppo dei ragazzi che faranno la cresima, quindi è un impegno molto importante. Avevamo cominciato con gli incontri il venerdì sera, ogni tanto organizzavamo delle pizze, delle gite, siamo stati al faro di Portofino, siamo stati ad Assisi. Ultimamente ci siamo un po' persi, un po' per impegni di tutti, di chi organizza, però cerchiamo in qualche modo di vederci.